buongiorno dormi secondo me c'è nuvolo l'alba non si vede ci sarebbe già tu cosa dici Bea la vediamo l'alba vuoi filmare te devi guardare qua così ecco sei lì devi guardare lì sopra ciao a tutti ciao a tutti questa mattina Bea ha deciso di alzarci alle sei è andata a dormire presto Pauline così abbiamo colto l'occasione per fare una colazione spiaggia piano piano vieni che dobbiamo camminare fino laggiù al mare è ancora lontano Bea mangia il bibi con il latte ciao nervosetti vi diciamo ci siamo già sporcati tutti i bragotti e bagnati anche con l'acqua delle pozze mannaggia Bea fa freschetto ma ci sono 15 gradi noi abituati alle temperature dei giorni scorsi che ce n'erano tipo 7 5 a oggi fa caldo chiudi il tappo chiudilo sei capace a chiuderlo sei capace a chiuderlo ma è bellissima grazie a tutti 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 grazie a tutti